o qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione sei stato via per un bel po leonardo è un chiacchierone ah lo so ma confido che non abbiate solo parlato io ti ho donato l'abilità leonardo ti ha dato la lama ora non ti resta che agire dove posso trovare uberto secondo le mie ragazze stasera assisterà alla presentazione dell'ultima opera del verrocchio presso il chiostro di santo c'è veglia su mia madre e mia sorella mentre sono via sicuro ezio come se fossero le mie sarà una scommessa fra ubriachi una scommessa franici una scuola una scuola Grazie. 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 Non riversate le pubbliche pontane. Non riversate tinture o residui di lavorazione nelle fonti d'acqua cissanine.